Premio natalità, sanità, familiari disabili, maternità e paternità, congedo per malattia dei figli, asilo nido e premio istruzione. L'EBT, l'ente bilaterale del turismo, mette mano al portafogli e destina oltre 600 mila euro su una dotazione complessiva di 2 milioni per sostenere le famiglie dei dipendenti stagionali del settore. Un comparto che in Puglia, da maggio a settembre, coinvolge da 450 a 650 imprese sul territorio e oltre 150 mila lavoratori solo nella nostra regione. A usufruire dei contributi saranno i lavoratori con contratti subordinati, a termine o indeterminati, delle imprese aderenti all'EBT. Obiettivo del provvedimento, già avviato durante il periodo Covid, è far emergere il sommerso. L'extralberghiero dichiara 43 mila annunci, anzi precisamente nel 2022 per avere lo stesso rapporto sono 41 mila, occupano 400 aziende, cioè 400 aziende dichiarano nel picco 2 mila persone. Allora questa è la vera discriminazione che oggi noi vediamo, che ha poi dei ritorni sull'occupazione. Il turismo che ovviamente in maniera parallela a quanto fa la regione Puglia cerca di sostenere le persone, in questo caso i lavoratori del comparto turismo, che in alcuni periodi dell'anno chiaramente vedono venir meno un reddito e quindi una tranquillità anche economica. Crediamo che sia assolutamente opportuno.